ci sono cose che non vorresti fare ma a volte è necessario avvertire gli altri io mi sono scocciato di conoscere gente tramite chat soprattutto con uno scopo per poi essere puntualmente quando si tratta di persone due simili uomini che in questo caso puntualmente scaricato o con le peggiori scuse o con un blocco o qualcosa del genere questo è uno stato di cose che non mi va più bene quindi da questo momento in poi quando ci saranno video che parlano dell'amore io vi pregherei perché ci saranno video vecchie non iniziate a scrivermi le solite cose all'amore e lo troverai perché io basta dopo le ultime cose che ho vissuto ho deciso una cosa per me molto difficile molto molto difficile non sono stato cacciato non verrò mai cacciato quindi cercate di non capire male ma io ho deciso di andare in struttura lo so lo so vi state dicendo è Freya e Freya Freya rimarrà in casa sua perché è necessario che il distacco sia il meno doloroso possibile per lei quindi io sì sono importante ma lei lo è di più e quindi lei rimarrà in casa sua rimarrà in casa sua perché non deve avere grossi traumi e volevo dire questa cosa come perché nel video di domani perché domani ci sarà già un nuovo video questo manco lo voglio sfumare nel video di domani che sarà il video dei regali non voglio che mi chiediate che sei triste che è successo ecco adesso lo sapete ho fatto domanda per la struttura e quindi prima o poi andrò volontariamente sottolineo volontariamente via da questa casa perché sono stanco di cercare nuove continuamente vie d'uscita e vie d'uscita sono due o da solo o in coppia da solo lo stato non ci permette di vivere non ho voglia di conoscere persone in questo momento alla luce delle ultime esperienze alla luce degli uomini che ti scaricano per il carattere dicono loro dopo due volte che ti hanno visto oppure anche una quindi basta questo è tutto ora lo sapete e noi ci vediamo domani con un nuovo video ciao grazie a tutti grazie a tutti